allora lunedì fatica da lunedì giovedì fatica da giovedì perché sia sul finire della settimana in totale non mi posso far mai far fatica poco quella laura dirà fatica perché la mia prima volta dopo mesi anche la rosi dirà così passo corto 4 3 2 1 tacco piante punta ancora 4 3 2 e 1 cammino normale 4 3 2 e 1 corto tacco piante punta queste fascette sembrano così leggere 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 in verità non vi dico niente sentirete 4 3 2 e 1 cammino passo ancora un pochettino più lungo perché si rallenta e un piede davanti all'altro 4 4 3 2 1 e d'acro passo largo prendo tutto il tappeto bello lungo eh ok ok torno un piede davanti all'altro sempre lungo 3 2 1 e d'acro 4 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 3 2 1 e d'acro 5 2 2 1 e d'acro 2 E d'acro 3 3 2 1 e d'acro 4 2 1 e d'acro il petto, su, su, e ancora quattro, qui, tre, su, due, su, uno, continuiamo passo senza la gamba, quattro, tre, due, prestando attenzione, saltello saltello al centro, corricchio senza cadere, due, corricchio da un lato e dall'altro, due, tre, quattro, cinque mi raccomando non cadete, sei, sette, otto un po' di corsetta al centro, solo otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, lato e ancora lato lato, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, al centro, corro solo otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, lato lato l'ultima volta, cilindro, corricchio solo otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cammino, lato, 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 come va? ancora quattro, tre, due, e stop scendo se voglio bevo anche perché fa caldo fa caldissimo prendiamo la nostra fascetta la mettiamo la mettiamo sopra le ginocchia l'elastico deve rimanere sempre in tensione quindi non avvicinate troppo le gambe sempre un pochettino in tensione semplicemente passo e chiudo passo e chiudo due tre quattro cinque sei sette otto e ancora otto sette sei cinque quattro poi sei troppo leggero la prossima volta ci sono quelli più pesanti e stop ci fermiamo dunque la gamba la lasciamo sempre tesa quella di terra leggermente piegata da qui su uno due tre quattro cinque sei sette otto otto sette sette cinque tutte e due quattro tre due uno ancora un due tre quattro cinque sei sette otto otto sette sei cinque quattro tre due e uno cambia gamba la rosi sta attenta a far facciacce per non darmi soddisfazioni ho visto perché diciamo ma cazzo di te non andrà male poi però quando ho detto cambiamo parte ho visto un sorriso adesso ho perso il conto due tre quattro cinque sette sette otto ancora o sette sei cinque quattro tre due e uno ok passo a chiudo continuiamo con il nostro passo a chiudo uno due tre quattro cinque intanto si rilassano eh non è vero sette oh vero otto sette sei cinque quattro tre due e riprendo qui vado otto due tre quattro cinque sei sette otto otto sette cinque quattro tre due due tre quattro cinque sei sette o o sette sei cinque quattro tre due passo a chiudo due tre cosa succede? fa niente dopo pareggiano prima della fine si pareggiano cinque sei sette otto e ancora otto sette sei cinque quattro tre due mi fermo otto due tre quattro cinque sei sette otto e ancora otto sette sei cinque quattro tre due cambio otto due tre quattro cinque sei sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre due e uno stop togliamole allora il mio è quello più duro non so se ci sto dentro però il vostro è un pochettino più morbido dovreste starci lo mettiamo in questo modo tipo fascetta ce la facciamo? non so qual è il miglior modo per metterlo io mi sono sacrificata per voi eh ho preso quello durissimo altezza seno altezza è stretto il vostro è stretto abbastanza è stretto quanto il mio allora ci mettiamo qui dovremmo farcela ma non so non so se ce la facciamo a metterlo così ce la facciamo? ce la facciamo? plank ancora otto sette sei cinque quattro tre due stop quattro sembrano sembrano stupidata ma è già difficile entrare in questo elastico è già un esercizio vado uno due tre quattro cinque sei sette otto ancora quattro sette sei cinque quattro tre due uno faticosissimo è tremendo vero? su 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 ancora uno ce la facciamo? io non lo so mi sono sacrificata con questo qui ma è durissimo uno due tre quattro cinque sei sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre due uno stop basta è faticosissimo ci liberiamo? ma no perché liberarsene? no guardate voi mettetelo deve essere sopra il ginocchio vedete voi dove è comodo su perché ve l'ho fatto tenere? perché lavoriamo ancora lato lato uno due tre quattro la plank con questo è un esercizio demoniaco su la Laura vuole vuole lavorare ancora con i glutei lato lato su con l'interno ok su e tre fai lavorare senza così qui mi sembrerà l'acqua di rose due su tre qui quattro qui cinque su sei su su sette su otto ne facciamo ancora otto e poi andiamo dietro otto sette sei cinque cinque quattro tre due uno ora indietro dietro 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 su se volete far più fatica tenete più basso l'elastico non tenetelo sotto i glutei tenetelo un pochettino più in giù uno due tre quattro cinque sei sette otto e ancora otto sette sette sei cinque quattro tre due ci fermiamo qui? qui su due tre quattro cin sei sette otto otto sette sette cinque quattro tre due ne facciamo ancora sedici mi raccomando non datevi la spinta in questo modo eh fermate i piedi paralleli e da qui su su tenete l'elastico tenete l'elastico all'andata ma anche al ritorno perché così si lavora due volte due tre quattro cinque sei sette otto otto sette sei cinque quattro quattro due e uno la Laura non mi tiene il ritorno su due tre quattro cinque sette sette no slancio contrazione su otto sette sei cinque quattro quattro due ancora su due tre quattro cinque sei sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre due e solo destra e sinistra come va? sto pensando ai vostri glutei non me ne siete accorti ne facciamo ancora otto sette sei cinque quattro tre due e uno scendiamo ci liberiamo un salto ma non proprio per tutto eh lo lasciamo lì un salto ma non proprio per tutto eh gambe qui gambe qui facciamo addominali a libretto scendo e salgo un su due su tre su quattro su cinque qui sei ok volendo volendo potevamo tenerla eh qui ancora otto sette sei cinque quattro tre due e uno giù solo crunch uno due due tre quattro cinque sei sette otto ancora otto sette sei cinque quattro cinque cinque sei sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre tre e uno crunch uno due tre quattro cinque sei sette otto e ancora otto sette sei cinque cinque quattro tre sette quattro due e uno stop riprendiamo la nostra fascezzina questa volta la mettiamo qui la mia è troppo dura mi sono sacrificata troppo allora push up position da qui apro piego su chiudo io riesco poco perché la mia è durissima scendo su e chiudo apro scendo su chiudo apro scendo su chiudo ce la fate? o è troppo dura anche la vostra? fatemi vedere ok sì ricordatevi di scendere in mezzo alle vostre braccia in questo modo ve lo faccio vedere senza fascezza teoricamente sarebbe questo apro push up su chiudo apro push up su chiudo apro push up su chiudo apro solo una parte apro il problema è che io ho preso quella ipsic ibi ed è veramente per le gambe va bene per le braccia assolutamente no apro andrebbe bene per un uomo apro su chiudo apro giù apro giù quante ne abbiamo fatte? e sto a lungo ne facciamo ancora otto? ce la facciamo? ce la facciamo? la Laura è già pronta vado apro giù su chiudo apro due su chiudo tre giù su chiudo quattro giù su chiudo cinque giù su chiudo sei giù su chiudo sette giù su chiudo otto giù su e stop a lungo torniamo sul nostro zappetino poco poco se volete bevete prima come va? come va? la prossima volta ne prendiamo due uno pesante per le gambe e uno leggero per le braccia un bel passo prima di rilavorare i suoi glutei lavoriamo con i femorali toccando col tallone e il gluteo sempre con gli appoggi laterali su su e guarda come fa la la Laura che ti diventa più facile seguire si su due su tre su quattro su cinque sei sette otto e ancora su otto sette sei cinque cinque quattro adesso insistiamo con le gambe e domani avrete male alle braccia ancora ancora un paio due e stop lato lato quattro tre due due uno cammino al centro solo al centro solo al centro due uno cammino al centro e e tutto bene tutto bene? sì meno faticoso di giovedì scorso un paio un paio un paio un paio ancora quattro tre due e uno stop scendiamo riprendiamo la nostra cucetina la rimettiamo tra le gambe però ci mettiamo in ginocchio dunque della gamba che rimane a terra facciamo in modo che l'elastico passi sotto il ginocchio così lo blocca e invece dell'altra su 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 stendo bene su quattro cinque sei sette otto e ancora otto sette sei cinque quattro tre due uno e uno cambio gamba e ancora sappiate che non mi sacrifico più è con questo elastico qui la prossima volta lo prendo più leggero e non più pesante vado cambio gamba uno uno due due tre quattro cinque sei sette otto e ancora otto sette sei sei cinque 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 quattro tre due e uno lato lato uno due tre quattro cinque sei sette otto e ancora otto otto sette sei cinque quattro tre due due e uno mi siedo se riesco ancora questo lo terrò per gli uomini che pensano che l'elastico sia una cosa da donne apro qui due tre quattro cinque sei sette otto otto sette no no sopra perché sennò da sotto sforziamo il ginocchio invece sopra no sopra i glutei ho perso il conto per voi è facile eh abbiamo perso il conto ne facciamo ancora quanti allora dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due l'emanuela può capire un go colore ce l'hai blu scuro scuro grigino no voi però potete capire di più la mia sofferenza perché se quello verde è più leggero eh riprendiamo una volta possiamo mica fare una serie mica solo una serie poi voi avete quello leggero vado ho due tre quattro cinque sei sette otto ancora ancora otto sette sei cinque quattro tre due largo otto due tre quattro cinque sei sei sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre due e uno dolorissimo cambio gamba e vado uno due tre quattro cinque sei sette sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre due lato otto due tre quattro cinque sei sette otto otto sette sei cinque quattro tre due e uno stop mi siedo un salto gli ultimi ma tanto vedo che vi girate ancora con disinvoltura vado vado uno due tre quattro cinque sei sette otto otto sette sei cinque quattro tre due uno ancora otto due tre quattro cinque cinque sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre due e uno stop tolgo tolgo allora posizione ballerina stretcio il gluteo un salto stretciato il gluteo cambio parte cambio parte glutei come nuovi sì come nuovi bene schiena a terra gambe in alto mani sotto i glutei vanno benissimo semplicemente sforbiciate ci servono solo per sciogliere uno due tre quattro cinque sei sette l'elastico Laura mettimelo sul tavolino dietro ancora ancora otto sette sei cinque quattro tre due ancora sedici uno questo è niente confronto prima due non sentite le gambe leggere quando si muovono otto sette sei cinque quattro tre due e uno stop porto le ginocchia al pezzo scendo con i piedi a terra braccia larghe scendo con le gambe a sinistra e porto la testa a destra centro cambio gambe a destra testa a sinistra centro ginocchio al petto dondolo sulla schiena e mi siedo tutto bene? sì metto il petto poi per le braccia ho gli elastici con le manopole però eh con quelli si fa meno fatica piano pian piano srotolo la colonna e poi sempre per le braccia abbiamo gli intramontabili pesetti però respirone su giù ancora uno su e fuori tutto giù sicuro grazie grazie grazie